Terzo allenatore in tre campionati di Serie D e progetto tecnico ancora, una volta rivoluzionato. Mercoledì pomeriggio è stato il giorno della presentazione del nuovo mister Luca Tabbiani, ma anche in questo caso si tratta di una scelta che il club del presidente Pinalli si è ritrovata a dover adottare per cause di forza maggiore. Dopo aver lanciato nell'orbita dei professionisti Alessio Dionisi e preso atto dell'addio di Lucio Brando, che sarà la guida dell'ambizioso Mantova, sempre in quarta serie, i valdardesi piazzano la nuova scommessa sul 41enne, ex giocatore di Cremonese e Genua tra le altre, nelle ultime stagioni alla guida di Lavagnese e Vado. La società mi ha chiesto di proporre un calcio propositivo, di cercare di fare la partita sempre per vincerla e di giocare in maniera molto aggressiva. Sicuramente avremo una squadra giovane, ma è la bellezza di poter lavorare con i giovani e che hanno sicuramente l'entusiasmo e la gamba per poter fare un certo tipo di calcio. Sicuramente vengo dopo due allenatori che hanno fatto grandi risultati e soprattutto hanno espresso un grande calcio. Spero di continuare il lavoro che hanno fatto questi due allenatori e spero ovviamente a livello societario di poter ottenere gli stessi risultati o magari di fare qualcosina in più. Si può dire che nel corso di queste stagioni, di questi anni, Fiorenzuola, la società, sia diventata una sorta di vetrina sia per i giocatori che per gli allenatori. Questo ci fa molto piacere. Sicuramente anche quest'anno non sarà facile perché dobbiamo ricostruire un po' la squadra, cominciando dal mister, però reputiamo che il nostro vettore sportivo riuscirà anche quest'anno a creare, a costituire una squadra che sicuramente sarà all'altezza di quella degli ultimi due anni. È il mister che ritengo che possa dare continuità al lavoro svolto in questi due anni. Un filo conduttore tra il lavoro fatto da Dionisi e da Brando e quindi partiamo con questa terza stagione con l'obiettivo di fare bene anche quest'anno. L'augurio che mi sento di fare a mister Stabiani è di riuscire a emulare quello che hanno fatto i suoi due predecessori. Il terzo anno consecutivo, eventualmente, ripetere una stagione come le precedenti non sarà facile. Noi ci proviamo.